Seconda parte dedicata alle funzioni con Dart. Rimaniamo ancora in tema di parametri. Ho cambiato file, sorgente, ho preparato questa funzioncina che dovrebbe servire a generare, in base ai parametri che riceve, la marcatura HTML corrispondente a un bottone eventualmente stilizzato, appunto, in base ai parametri. Ed è solo su questi ultimi che dovremo concentrare l'attenzione, il codice, ma sì. Fino ad ora abbiamo visto esempi di funzioni con parametri obbligatori, vuol dire che nel richiamare la funzione genera bottone dovremo per forza indicare questi due parametri che, oltre ad essere obbligatori, sono anche definiti posizionali perché, nello specificarli, dovremo rispettare l'ordine e la posizione con cui le abbiamo indicati qui, come parametri formali. Detto in altre parole, non potremo specificare prima l'intero codice colore nella chiamata e poi la stringa dell'ID. Per forza, prima rispettare la posizione dell'ID che sarà il primo parametro attuale da indicare nella chiamata e poi per forza l'int codice colore. Beh, iniziamo a liberarci di alcuni di questi vincoli. Trasformiamo uno o al limite anche tutti questi parametri in non obbligatori opzionali e nel farlo potremo anche indicare un valore default nel caso saltassimo quel parametro. Ho aggiunto alla funzione un terzo argomento questo int e larghezza che non voglio sia obbligatorio. E allora lo racchiudo tra parentesi quadre. In questo modo divento opzionale. Vuol dire che potrò chiamare questa funzione con due parametri o tre. Convinciamocene togliendo qua il terzo parametro nell'invocazione senza le parentesi quadre quella larghezza sarebbe obbligatorio e ci verrebbe subito segnalato. Mi aspettavo tre parametri e ne ho trovati due. Rimettiamolo opzionale. Nel farlo abbiamo anche la possibilità di indicare un valore default non ti dico la larghezza beh, fissala tu automaticamente a 100 facciamo finta che sia un pixel non ho specificato l'unità di misura. Ricordate però prima, se ce ne sono bisogna per forza elencare tutti i parametri obbligatori e solo dopo quelli opzionali. Come dire che non posso decidere che l'ID è opzionale poi il codice colore obbligatorio larghezza di nuovo opzionale. No. Inoltre per poter specificare uno dei parametri opzionali diciamo larghezza devo specificare anche tutti quelli che precedono. Non posso indicare cioè soltanto un intero e aspettarmi che sia inteso come la larghezza con quale criterio d'altronde potrebbe scegliere. Perché non interpretarlo come il codice colore? Per cui vuoi specificare larghezza? Beh, allora ti tocca comunque specificare anche l'ID e il colore. Ma se vuoi specificare semplicemente il colore sarai obbligato a specificare soltanto l'ID e se vuoi specificare soltanto l'ID nulla. Notate che ho spostato qui la quadra rendendo opzionale anche l'ID. Per cui questo va bene quando ce n'è uno viene attribuito al primo. Questo invece non va bene fosse il codice del colore. Non puoi specificare il colore senza aver prima specificato anche l'ID. questo va bene e il 65 è per forza associato al parametro formale codice colore. Poi la larghezza riceverebbe in automatico il valore 100. Quando manca valore default e salto quel parametro avrà come valore null. E' certo che quando i parametri sono tanti d'accordo già un vantaggio che sono opzionali così in certe situazioni non sono costretto a specificare proprio tutti. Sarebbe bello però poter dire funzione ti sto chiamando con solo questo valore che rappresenta il colore o la larghezza. Stiamo in pratica chiamando a gran voce il supporto nativo per una caratteristica davvero utile di Dart e cioè i cosiddetti parametri nominali. Introduciamo la possibilità di specificare a quale parametro si fa riferimento indicando questo 65. Metteremo davanti il nome del parametro codice colore adesso segnala in rosso perché devo ancora sistemare alcuni aspetti sintattici però l'idea è questa mettere l'identificatore che individua il parametro codice colore due punti sto nominando il parametro che voglio utilizzare per avere questa possibilità avere i parametri nominali devo indicare le graffe non le quadre vedete Flutter ha dei costruttori dei widget degli oggetti che definiscono l'interfaccia che possono avere davvero tanti parametri beh non ci stupisce allora che quasi sempre saranno stati implementati questi metodi con parametri nominali così potremmo indicare anche solo uno dei 5 10 parametri possibili senza specificare quelli che precedono come nello schema posizionale purtroppo Dart non supporta al momento il concetto di overload che troviamo ad esempio in linguaggi come G++ che permette di avere funzioni con lo stesso nome identificatore e diverse configurazioni di parametri questo avrebbe ulteriormente aiutato del nessuno controllo il proliferare di quelli che a volte comunque sembrano troppi parametri e sì visto che non abbiamo nessuna segnalazione avrete già intuito che anche con i parametri nominali è possibile specificare dei valori di default come prima ultimo dettaglio c'è anche la possibilità di rendere un po' meno libertino l'utilizzo dei parametri nominali indicando in alcuni come obbligatori per farlo ad esempio rendere obbligatorio l'id dovremmo aggiungere prima del parametro l'annotazione che iniziano con chiocciola require è solo che per accedere alle annotazioni avremmo dovuto impostare l'editor per riconoscere correttamente la posizione dei packages insomma quello che per noi fa in automatico abbiamo visto nelle prime lezioni il comando flutter create che genera tutta la struttura delle cartelle e soprattutto i file di configurazione che farebbero capire all'editor come soddisfare l'import del package richiesto tra parentesi importando il tema material con flutter automaticamente avremmo l'import anche di questo meta.dart ok non riesco a mostrarvelo se non passando sul progettino di esempio di flutter ecco forzando un po' la mano ho inserito qui la funzione e l'ho invocata qua indicando solo codice colore e l'analizzatore di codice si accorge che abbiamo saltato il parametro id e ce lo segnala qua quindi non abbiamo vero e proprio errore bloccante a livello compilatore ma comunque un warning certamente importante perché molto probabilmente stiamo commettendo un errore le parametri di is required e qui chiuderei la seconda parte dedicata alle funzioni con la prossima penso di concludere l'argomento che ho preferito segmentare perché è denso di particolari che richiedono di fare test esercizi che sicuramente voi starete facendo a risentirci a risentirci